Dieci anni dopo il sequestro Palazzo Ferrara, il bene confiscato, che ospiterà la nuova caserma della Guardia di Finanza, in queste ore vede i tecnici della CSV Engineering a lavoro. Gli ingegneri della SRL Salernitana, che si sono giudicati l'appalto per i rilievi, le modellazioni e le progettazioni di interventi strutturali, dovranno portare a termine i lavori entro due mesi, dopo i quali scatterà l'appalto per i lavori di riqualificazione, al termine dei quali, a Via Ermada, arriveranno le fiamme gialle. L'edificio apparteneva a Fernando Ferrara, ex dirigente tecnico del Comune di Bativaia, imputato nel processo California per un presunto coinvolgimento nel clan camorristico ebolitano dei Maiale. Nonostante l'assoluzione in primo grado, nel 2010 sopraggiunse la confisca dell'immobile richiesta da Antonio Centore, PM della Direzione Distrittuale Antimafia di Salerno, poi accolta dai giudici del Tribunale di Salerno. Grazie a tutti.